Il messaggio di oggi, come suggerisce il titolo, riguarda come vivere negli ultimi giorni. Ricordo di aver sentito una storia anni fa su un paio di guardiani notturni in Inghilterra. Si erano riuniti per chiacchierare al cambio della guardia a mezzanotte. Sapete come venivano chiamate le guardie notturne? Si chiamavano gli urlatori della notte perché camminavano per la città e quando suonava il grosso orologio della città, alle dieci, bong, per dieci volte. Sei, sette, otto, nove, dieci e la guardia notturna diceva, sono le dieci e tutto va bene. Poi aspettavano un'altra ora, penso svegliassero la gente, ecco cosa facevano. Poi il grosso orologio suonava undici volte, bong, 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 e dopo undici rintocchi dicevano, sono le undici e tutto va bene. E a mezzanotte due urlatori notturni si riunivano insieme perché si preparavano a darsi il cambio. Uno smetteva di lavorare e uno cominciava a lavorare. Si vedevano per un po' e poi si preparavano per l'orologio che suonava a mezzanotte. E iniziava bong, bong, e erano abituati, contavano nella mente, sapevano esattamente quando sarebbero arrivati a dodici, ma quella volta l'orologio suonò dieci. Undici rintocchi, dodici rintocchi, tredici rintocchi, quattordici rintocchi, e poi si fermò. Si guardarono l'un l'altro e uno di loro disse, wow, è più tardi che mai, ed era vero. Era proprio vero. A qualunque punto siamo della storia, siamo un giorno più vicini alla seconda venuta del Signore. Ma potrei sorprendervi dicendovi che la Bibbia dice che il giorno del Signore e l'avvicinarsi della sua venuta sono vicini da molto tempo. Prima di tutto, perché stiamo studiando il tema di come vivere negli ultimi giorni? Sapete, si dice in secondo Timoteo 3,1 che negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Vediamo tempi difficili nel mondo oggi? Sono tempi pericolosi. E penso che tutti sappiano che le cose a un certo punto dovranno finire. Non si può continuare così per sempre. Guardate solo cosa sta accadendo nel mondo sull'ambiente, sulle risorse che sono consumate così in fretta. La popolazione che sta esplodendo, le sfide in atto tra le economie e la tecnologia sembra che stia accelerando fino al punto in cui tutto sarà controllato da robot. Molto presto. Vi chiederete, per quanto potrà continuare? Gesù ha detto che se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne si salverebbe. Ma stiamo vivendo negli ultimi giorni. E lasciate che vi dica che sono gli ultimi giorni perché la Bibbia dice che siamo negli ultimi giorni dall'Apostolo Pietro. Quindi, di sicuro, siamo negli ultimi giorni. Lo sapevate? Lasciate che vi legga qualche versetto e potreste sorprendervi. Atti, capitolo 2, versetto 16. Ma questo è ciò che fu detto dal profeta Joelle. Di cosa sta parlando? Dello Spirito Santo effuso alla Pentecoste. Quando iniziarono a parlare in lingue straniere, Pietro dice che questo è ciò che fu detto dal profeta Joelle. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio spirito sopra ogni carne. Penso che la profezia di Joelle sia una profezia doppia. Lo Spirito Santo effuso nella prima pioggia e poi verrà effuso di nuovo durante l'ultima pioggia. Pietro disse, e avverrà negli ultimi giorni. Ebrei, capitolo 1, versetto 1. Ascoltate. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri, per mezzo dei profeti in questi ultimi giorni. Guardate, Paolo l'ha detto duemila anni fa. Eccoci, negli ultimi giorni. Non dice così? In questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Poi, guardate Giacomo, capitolo 5, versetto 8. Siate pazienti anche voi. Rinfrancate i vostri cuori, perché l'avvenuta del Signore è vicina. Ora, perché dicevano che l'avvenuta del Signore era vicina duemila anni fa? Si sbagliavano? Prima di tutto, Gesù dice che nessuno sa il giorno o l'ora, che significa che gli apostoli non sapevano il giorno nell'ora. È corretto dirlo? Non sapevano che era a duemila anni di distanza. Sapevano che poteva avvenire in un qualsiasi momento, non perché Dio avesse scelto una data sul suo calendario, ma qualcosa doveva accadere prima del suo ritorno. Un altro modo per ragionare è quando venne Gesù e completò la sua missione, sapete, la vita, gli insegnamenti, il sacrificio, la morte, la risurrezione di Gesù, la scesa al cielo, segnò un cambiamento. Siamo tutti d'accordo? Qualcosa cambiò quando Gesù fece tutto questo nell'economia del Vangelo. Cosa cambiò in quel tempo? Iniziò a predicare. Gesù iniziò a predicare che il Regno dei Cieli era vicino. Giovanni Battista predicava pentitevi perché il Regno dei Cieli è vicino. Il Regno spirituale era disponibile quando venne Gesù perché morì e pagò la condanna dei peccati del mondo. Ebbe successo nella sua missione. Ora, questo è diverso dal Regno fisico vicino. Ci sarà un tempo in cui il Regno di Dio fisico sarà qui nel mondo. Egli verrà fisicamente, la terra imploderà, la tromba suonerà, verranno gli angeli, i morti risorgeranno e la storia del nostro mondo finirà. A quel punto ci sarà un tempo nella storia. Ma i discepoli pensavano che la fine fosse anche allora. Guardate qui. Prima Pietro 4,7. Or la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere. Significa che Dio ha fatto tutto quello che poteva per salvare l'uomo col sacrificio di Gesù. Tutto compiuto. Lasciate che benedica un altro. Prima Giovanni 2,18. Fanciulli, è l'ultima ora. Ci sono Pietro, Giacomo e Giovanni. Lo dicono tutti. Fanciulli, è l'ultima ora. E come avete udito, l'anticristo deve venire. E fin da ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Guardate il linguaggio. Ultima ora, ultimi giorni, fine di tutte le cose. Cosa vuol dire? Che si sbagliavano tutti? Beh, tenete a mente che Dio disse in prima Pietro, no, scusate, seconda, Pietro capitolo 3, versetto 8. Ora, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno. Quindi, se siete Dio e vivete miliardi di anni senza fine, quanto sono? Mille anni. Meno di un giorno per Lui. Ma voleva darci un'idea che potessimo comprendere e dice che è come un giorno. Ci sono i primi 4.000 anni, poi viene Gesù. Se ci sono 2.000 anni tra la Sua prima venuta e la Sua seconda venuta, e arriviamo a dove siamo oggi, vi rendete conto che se tornate indietro di 2.000 anni da dove siete oggi, Gesù era vivo e si aggirava sulla Terra? Sarebbe un punto tra la Sua nascita e la Sua morte. Quindi, cosa sono due giorni? Siete negli ultimi giorni, ne mancano due. Altrimenti direbbe che siamo nell'ultimo giorno. Capite cosa dico? Un'altra ragione per sostenerlo. Cosa mi dite della vostra vita? Per quanto tempo viviamo? Cos'è infatti la vostra vita? Giacomo 4.14. In verità, essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Qualcuno ha intervistato Bill Graham verso la fine della sua vita e gli ha chiesto cosa ti ha impressionato più di tutto nella vita? Ha detto la sua brevità. Era un tipo di 99 anni e diceva che era così breve. Sembra come se all'improvviso ci si guarda indietro e si dice pensavo di essere giovane, cosa è successo? Ora mi sto cercando un posto al cimitero. La nostra vita è come un vapore quindi se Dio dice ecco il giorno del Signore è vicino e la sua venuta è vicina quindi la vita è breve ed è vicino e più a lungo vivete e più si avvicina. Giusto? Quindi dobbiamo tenerlo a mente. Ora abbiamo vissuto negli ultimi tempi sempre in questo senso ma c'è un tempo vicino alla fine in cui si entra davvero nelle fasi finali della profezia. Ci sono anche delle scritture in cui Gesù ha chiarito bene che la sua venuta non era vicina come si poteva pensare. Se guardate Matteo capitolo 24 parla dei segni del suo ritorno. Si legge in Matteo 24 versetto 6 allora sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi perché bisogna che tutte queste cose avvengano ma non sarà ancora la fine. Qui Gesù dice non pensate che sia qui. Voglio dire durante la seconda guerra mondiale quando le bombe cadevano su Hiroshima la gente non pensava ah ecco e la gente pensava ecco con il Y2K vi ricordate? E alcuni hanno pensato quando sono state bombardate le torri gemelle ecco sembrava un po' apocalittico se guardavate le notizie e Dio ha detto guardate di non turbarvi perché bisogna che tutte queste cose avvengano ma non sarà ancora la fine. È quello che ha detto Gesù poi Paolo grazie al cielo se guardate seconda Tessalonicesi 2 chiarisce piuttosto bene che ci sono delle altre cose che devono avvenire prima della fine. Potete guardare il capitolo 2 versetto 3 di seconda Tessalonicesi nessuno vi inganna in alcuna maniera perché quel giorno parla del giorno del Signore non verrà se prima non sia venuta l'apostasia non parla di un'apostasia nel mondo perché il mondo è già apostata parla di un'apostasia nella Chiesa è come Giovanni quando dice che sorgeranno molti anticristi ma hanno già iniziato a essere apostati l'apostasia è già iniziata nella Chiesa poi ovviamente c'è l'ultimo anticristo che regnerà per 1200 anni Dio è molto paziente la sua pazienza ci sorprende qualche volta è una sfida quando si è cristiani e si vuole pianificare perché bisogna pianificare come se si vivesse per mille anni ma vivere come se si morisse domani non è vero? quando costruiamo un edificio sulla collina non vogliamo usare i materiali più economici pensando oh Gesù verrà tra 20 anni quindi risparmiamo un po' di soldi no volete costruire perché volete essere fedeli e farlo come qualcosa che durerà analizzerò ora vari punti mentre prendo in considerazione come vivere prima di tutto volevo stabilire che stiamo vivendo negli ultimi giorni siamo negli ultimi giorni da molto tempo e ho sette punti se volete tracciarli qui c'è la chiave di come vivere negli ultimi giorni imparare diligentemente vegliare pregando desiderare avidamente vivere puramente affidarsi completamente lavorare attivamente amare pienamente quindi ora se ve ne volete andare potete sapete cosa ho da dire dicono che la chiave per un buon sermone è dire alla gente cosa direte dirla e raccontare quello che avete detto ok parliamo di imparare diligentemente quindi come viviamo negli ultimi giorni dobbiamo sapere cosa sta succedendo il fondamento della fede cristiana è la Bibbia dobbiamo imparare diligentemente la Bibbia dice che non solo dobbiamo imparare personalmente dobbiamo insegnare la parola ai nostri figli Deuteronomio 6 versetti 6 e 7 e queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore le inculcherai ai tuoi figli ne parlerai quando sei seduto in casa tua quando cammini per strada quando sei coricato e quando ti alzi le legherai come un segno alla mano saranno come fasce tra gli occhi le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte circondati della parola di Dio sapete perché è così importante ai nostri giorni la vostra visione del mondo il vostro atteggiamento e tutta la prospettiva sulla vita è costruita su una visione del mondo significa che quello che pensate dell'aborto dipende dalla vostra visione del mondo quello che pensate su un'ampia gamma di questioni morali è guidato quello che pensate sulla guerra quello che pensate del perdono quello che pensate della finanza quello che pensate della carriera quello che pensate su tutto è guidato da una visione del mondo se la vostra visione del mondo è una visione del mondo cristiana che sostiene che siamo qui solo temporaneamente che lo scopo della vita è conoscere Dio e il suo amore e testimoniare Dio e il suo amore che questa vita è davvero breve se paragonata all'eternità allora questo influenza tutte le vostre decisioni se non avete una visione del mondo biblica seguite un processo decisionale completamente diverso per voi tutto è ora cosa avrò ora in questa vita in questo mondo invece che pensare all'eternità pensate a compiacere voi stessi invece che compiacere Dio vivete una vita segreta perché pensate che nessuno lo sappia dimenticate che gli angeli guardano sempre la vostra visione del mondo biblica ha effetto su tutto quello che fate quindi dobbiamo leggere la parola di Dio sviluppare una visione del mondo biblica e insegnarla ai nostri figli Nemia ci dice che quando uscirono da Babilonia tutto il popolo si riunì si alzò ed Ezra lesse dal libro della legge ecco perché ci alziamo quando si leggono le scritture per questo brano e si dice che i sacerdoti erano lì per aiutare a capire ciò che veniva letto uomini donne e bambini tutti si riunivano e veniva loro insegnata la parola di Dio poi la spiegavano la ampliavano Salmo 119 beh se volete sapere l'importanza di imparare leggete il Salmo 119 penso che nessuno qui lo sappia a memoria il Salmo 119 alcuni hanno memorizzato il Salmo 23 se volete memorizzare il Salmo 117 non è molto difficile è il Salmo più curto ma il Salmo 119 è interamente sull'importanza dell'apprendimento eccone un piccolo frammento il versetto 97 fino al 99 oh quanto amo la tua legge essa è la mia meditazione per tutto il giorno parla della parola di Dio i tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici perché sono sempre con me ho maggior intendimento di tutti i miei maestri perché i tuoi comandamenti sono la mia meditazione i cristiani che vanno all'università certe volte capiscono più dei loro insegnanti se sono cristiani e i loro professori no alcuni dicono che Dio non esiste ma la Bibbia dice lo sciocco dice nel suo cuore che Dio non esiste secondo Timoteo 2.15 studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio operaio che non ha da vergognarsi che esponga rettamente la parola della verità dobbiamo studiare studiare la parola di Dio fa parte del vostro schema abituale di vita? pensate che andare in chiesa una volta alla settimana sia sufficiente? no dobbiamo sapere che crediamo in quello che ci dice la Bibbia ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te il nostro problema è col peccato qual è la nostra più grande difesa contro il peccato? la sua parola cosa ha usato Gesù per combattere il peccato? sta scritto sta scritto sta scritto se il figlio di Dio il vostro salvatore ha avuto bisogno della parola di Dio per combattere contro il diavolo pensate di essere equipaggiati meglio di lui come possiamo farcela se non impariamo diligentemente? quindi questo è un modo per sopravvivere negli ultimi giorni studiare la parola vegliare pregando ora vi dico dove voglio andare a parare con questa parte del messaggio ho tre cose da dire le tre cose che ho da dire sono Bibbia preghiera testimonianza se attraverserete il santuario in questa chiesa gran parte di noi conoscono quel tempio nell'antica Israele un tempio nei cieli c'era il luogo santo c'erano tre cose nel luogo santo ricordate quali erano? c'era una tavola con il pane un altare con l'incenso e un candelabro con sette candele queste tre cose sono la chiave per entrare nel luogo santissimo alla presenza di Dio se volete andare in cielo sono le tre discipline della vita cristiana dovete pregare l'altare dell'incenso il pane la parola l'uomo non vive di solo pane ma di ogni parola serve il pane della vita la Bibbia e avete anche bisogno di testimoniare la vostra fede la Bibbia dice risplenda la vostra luce davanti agli uomini quindi essere testimoni nella vostra vita sono tre cose essenziali se volete essere sani spiritualmente dovete respirare dovete mangiare dovete fare esercizio fisico respirare è la preghiera mangiare è la parola di Dio fare esercizio fisico è testimoniare la fede sono leggi che non potete violare perché ci sono conseguenze mostratemi un cristiano ricaduto nel peccato e io vi mostrerò uno che sta tralasciando una di queste tre cose quindi bisogna trovare il tempo non solo per leggere la parola ma anche per pregare questa è la preghiera diligente vegliare pregando Tito 2.13 quando pensiamo alla seconda venuta aspettando l'abbiata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo quindi come facciamo ad aspettare pregando? Gesù ce lo dice in Marco 13.33 state attenti vegliate e pregate perché non sapete quando sarà quel momento della comparsa del vostro Signore vegliate e pregate cos'è una preghiera vigilante? significa una preghiera persistente ho sentito una storia di una donna che andava all'opera e era una di queste cose super chic era una signora ricca e togliendosi il cappotto si staccò la spilla e cadde tra le sedie tornando a casa si rese conto che la sua spilla d'oro tempestata di diamanti era caduta erano tanti anni fa quindi chiamò il teatro e chiese all'inserviente la parlò con il gestore e disse ho perso la mia spilla e fece una descrizione approssimativa della zona in cui era seduta le dissero signora stia in linea e andrò a cercarla per lei quindi rimase in linea e gli ci volle un po' andò tra le file cercando di vedere tra le file dei sedili e sotto i sedili e trovò la spilla tornò indietro e disse ho una buona notizia pronto? pronto? si era stufata di aspettare e aveva attaccato non aveva mai dato il suo nome non richiamò mai e si era stufata di aspettare quindi aveva perso il suo tesoro mi domando quante volte perdiamo un tesoro che Dio ci vuole dare perché non guardiamo devotamente non aspettiamo e vegliamo e non aspettiamo il Signore pregando non solo parlando qualche volta bisogna ascoltare un altro versetto stesso capitolo Marco 13 versetto 35 vegliate dunque perché non sapete quando il padrone di casa verrà Gesù l'ha detto di sera a mezzanotte al cantar del gallo o al mattino perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati ora ciò che dico a voi lo dico a tutti vegliate questo è quello che dice il Signore dovete vegliare e pregare non sapete quando verrò potrebbe essere mattina potrebbe essere sera potrebbe essere mezzanotte potrebbe essere quando il gallo canta dobbiamo quindi vivere in un atteggiamento costante di vigilanza vegliare e pregare vegliare e pregare che tristezza sarebbe andare a dormire nel momento cruciale prima Pietro 4.7 ve l'ho già citato or la fine di tutte le cose è vicina siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere voglio dire siate sobri nelle cose di Dio la Diodati dice temperanti voglio dire è l'eternità che è in gioco un'altra cosa è che non potete ridere vuol dire che serve tenere la cosa fondamentale come tale avere delle priorità la preghiera per un cristiano è importante quanto respirare per il corpo dovremmo vivere in un atteggiamento di preghiera voglio dire respirate sia che siate consapevoli o no so qualcosa di personale su di voi respirate da sempre con pochissime interruzioni la Bibbia dice di pregare incessantemente dovremmo vivere come se camminassimo con Dio in comunione con Lui queste sono le persone che saranno pronte quando verrà Cristo la Bibbia dice che Noè camminò con Dio Enoch camminò con Dio Enoch il settimo dopo Adamo fu portato in cielo voi e Dio che viviamo nell'ultima generazione la chiesa di Laodicea potremo essere portati in cielo ma anche noi dobbiamo camminare con Dio Luca 21.36 vegliate dunque pregando in ogni tempo quanto spesso vegliamo e preghiamo pregando in ogni tempo affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere di che cose sta parlando Luca 21 parla dei segni della fine le calamità e problemi degli ultimi tempi dobbiamo pregare in ogni tempo per essere ritenuti degni di scampare a tutte queste cose e di comparire davanti al figlio dell'uomo quando verrà nella gloria quindi è molto chiaro una delle cose che dovremo fare per essere preparati per gli ultimi giorni è pregare avere una vita di preghiera stabilite dei tempi potreste pensare oh beh non sono molto bravo con questa cosa della preghiera la preghiera è una cosa che si impara persino gli apostoli sono andati da Gesù insegnaci a pregare come ha insegnato Giovanni non sentitevi in difetto pensavo che la preghiera fosse una cosa spirituale solo da sentire una specie di cosa del cuore ci sono modi giusti di pregare e modi sbagliati di pregare si può insegnare come pregare prendete dei buoni libri sulla preghiera io e Karen stiamo leggendo un libro molto bello sulla preghiera è un librone lo leggiamo da settimane durante la nostra preghiera ma è bello è di Ian Bounds in caso ve lo stiate chiedendo è tutto quello che Ian Bounds abbia mai scritto sulla preghiera tutto in un libro è molto bello ma mi ha aiutato a capire quanto devo ancora imparare sulla preghiera soprattutto per coloro che vivono alla soglia dell'eternità dovremmo sapere come si prega non solo per noi stessi ma per la chiesa per un risveglio Amen Amen